Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti al mio canale. Il caldo terrificante di queste ultime ore, di questi ultimi giorni mi ha suggerito l'argomento di questo video e quindi vi parlerò di alcuni aneddoti sparsi sulla grossa difficoltà di operare militarmente in un territorio particolarmente caldo, sia esso un caldo secco e rovente come quello del deserto nordafricano o sia esso il tremendo caldo umido delle giungle del sud-est asiatico. Ad esempio vorrei raccontarvi di ciò che avvenne all'Africa Corps, questo reparto tedesco che la Germania italeriana aveva mandato nel febbraio del 41 e che operò poi fino al maggio del 43, quindi proprio fino alla fine della campagna del nordafrica quando le truppe dell'assito tedesche si dovessero ritirare dalla Tunisia abbandonando la zona, quindi tornando in Sicilia, che verrà invasa di lì a poco. E dicevo appunto questo reparto era stato mandato da Hitler in Libia per aiutare l'alleato italiano perché il piano era occupare dalla Libia che era italiana fino al 1911-12 quando era stata conquistata strappandola al morente impero ottomano dall'Italia. Appunto partire da lì, attaccare l'Egitto che era sotto controllo inglese e arrivare ad occupare Alessandria d'Egitto e il vicino Canale di Suez. Perché proprio Canale di Suez? Beh, a parte la vicinanza con gli importantissimi pozzi petroliferi del Medio Oriente, ma soprattutto perché il Canale di Suez rappresentava la cerniera, chiamiamola così, tra il Mediterraneo e l'Oceano Indiano, quindi tra i territori più vicini alla madrepatria del Regno Unito e appunto i territori dell'Impero Britannico, l'India in particolare, ma anche l'Australia, le colonie africane, eccetera, quindi appunto era un collegamento vitale per i rifornimenti che dall'Impero arrivavano in patria in Inghilterra. Rifornimenti in uomini, in armi, in materiali, in rifornimenti di carburante, come dicevo, e quindi appunto era di vitale importanza occupare questa zona. L'Italia non ce la faceva da sola per problemi di carattere strategico, purtroppo i nostri comandanti erano abbastanza scarsi, in particolare ricordiamo il Marshalo Graziani, un uomo particolarmente fedele al Dulce, un uomo però appunto più politico che stratega, era arrivato dove era arrivato più che altro per meriti politici, diciamo, infatti poi lo ritroveremo a comandare l'esercito di Salò, l'esercito nazionale repubblicano, però appunto purtroppo nella campagna nord-africana si dimostrò abbastanza scarso. E allora appunto Hitler ha deciso di aiutare l'alleato italiano mandando questo reparto, ecco diciamo che, il reparto principalmente corazzato, tra l'altro diciamo che i tedeschi non sono proprio l'etnia più adatta a combattere in un teatro così caldo. Le canzoni, appunto le marce di quest'Africa Corps, riportano continuamente, torrono sempre sul tema del caldo rovente, del fatto che lì non c'era traccia di neve, non c'era traccia di, assolutamente figuriamoci, di ragazze bionde, ci sono appunto canzoni dell'epoca che parlano proprio di questi argomenti, ecco. Come tema principale, non tanto la battaglia, la gloria del combattimento, il deserto, no, appunto questioni meteorologiche e di popolazione. E allora, come dicevo appunto, ebbero particolari problemi, la maggior parte delle perdite subite dall'Africa Corps, almeno nei primi tempi, fu dovuta non tanto ai combattimenti con gli inglesi, quanto piuttosto per motivi climatici, appunto i soldati non riuscivano ad acclimatarsi facilmente e quindi erano colpiti da malattie, da insolazioni, erano colpiti da dissenteria perché bevevano l'acqua che trovavano e quindi spesso quest'acqua era inquinata e quindi appunto ebbero particolari problemi. Le divise appunto corte perché bisognava stare, bisognava appunto sopportare il caldo ma poi bisognava allungarle perché, soprattutto i pantaloni, perché le gambe dei soldati si ferivano una volta che questi si dovevano buttare a terra tra i sassi del deserto. Poi il problema dei carri armati, chiaramente fare la guerra nel deserto dei carri armati è molto problematico perché il nemico ti vede da chilometri e chilometri che le tue colonne alzano un polverone infinito. Quindi anche questo problema dell'effetto soppresa è decisamente importante. E appunto si riporta questo aneddoto che vuol raccontarvi dei soldati tedeschi che sul fronte nordafricano si trovavano spesso, ci sono anche molte foto a testimoniare questa vicenda, si trovavano spesso a farsi le uova direttamente sulla corazza dei loro carri, quando erano così roventi che erano delle padelle in pratica, quindi rendiamoci conto cosa dovesse essere fare la guerra in quelle condizioni. E beh, gli inglesi comunque anch'essi, etnia abituata più che altro a un clima piovoso e freschino, non erano anche loro proprio del tutto a loro agio, certo avevano avuto molte esperienze nell'impero, in India avevano imparato già da molto tempo dai locali a bere te caldo, anche appunto in un clima rovente per non sudare, si erano abituati, avevano preso questa abitudine, però ecco non si trovavano del tutto a loro agio nel deserto egiziano e quindi molto spesso si trovavano questi soldati inglesi, magari di seconda linea, quindi artiglieri, uomini dell'amministrazione, cose così, pressoché nudi, con i gradi appiccicati sulle spalle con lo scotch, quindi insomma, perché appunto poveriti anche loro non avevano divise particolarmente adatte al teatro di guerra. Gli italiani se la cavavano un po' meglio, ma perché avevano avuto l'esperienza appunto dell'Africa orientale, e questo nostro, quella che ai tempi era l'Abissinia, Etiopia, Eritrea, Somalia, quello che è stato il nostro effimero impero italiano, conquistato appunto tra la fine dell'Ottocento e soprattutto nella guerra di Etiopia nel 1935-36. Però anche lì non fu, bisognava andare avanti per esperimenti, ad esempio quando le truppe italiane nell'ottobre del 35 sbarcarono a Massawa, per poi, quindi dall'Italia, arrivarono via nave in Africa e da lì per arrivare a etato di guerra, che si prolungò fino al maggio del 1936, quando finalmente appunto la capitale etiope venne occupata di Sabeva e l'impero venne fondato, durò fino al 41, quando appunto le confinanti colonie inglesi la schiacciarono questa nostra Abissinia. A tal proposito si ricorda la resistenza mitica del duca d'Aosta, Amedeo, che era appunto vice-rede Etiopia e decise di resistere coi suoi per un sacco di tempo sull'Ambalagi, questa montagna etiope, finché appunto non se ne poteva più e si dovette arrendere. Morì poi prigioniero degli inglesi di malaria in Kenya, come purtroppo molti dei nostri soldati. E come vi dicevo appunto, quando gli italiani sbarcarono a Massawa, dovettero fare chiaramente una parata di inizio. Le truppe appena arrivate dovevano sfilare per la città per dimostrare il loro potenziale e da lì poi andare verso il fronte vero e proprio. Non avevano però, ricordiamo partiamo dall'Italia in ottobre, non avevano delle divise adatte ancora a un teatro così rovente come quello dell'Etiopia e della Somalia. I soldati non ce la facevano a marciare veramente, il fucile era troppo pesante, lo zaino erano... Poi gli italiani avevano questa brutta cosa dell'avere le divise con la cravatta addirittura. Avevano il bavero della giacca militare aperto, camicia e cravatta. Non molto comodo, molto chic e molto Italian style per carità, però ecco diciamo non era il massimo. Dopo i fatti verso la fine della guerra e soprattutto nelle truppe della Repubblica Sociale Italiana questa cosa venne persa. Però appunto ecco, diciamo che sfilare con questo clima e con tutto l'equipaggiamento era impossibile. I soldati veramente non ce la facevano. Allora si decise di farli sfilare in mutande. Canotiera e mutandoni. Scarponi, fucile in spalla. Beh, fu un successone. I soldati erano veramente al top, sfilarono orgogliosissimi, dedero una grandissimo e fecero molta impressione appunto agli ufficiali che li vedevano, che li passavano in rassegna. E quindi questa è la storia della sfilata che avviò la guerra d'Etiopia del 35-36 appunto. Non furono gli unici a girare in mutande perché già più o meno in quello stesso periodo, tra il 1936 e il 39, era scoppiata la guerra civile spagnola. Hitler aveva mandato la sua legione Condor, un reparto di aviazione, quindi appunto di aerei, che doveva supportare le truppe nazionaliste del generale Franco che poi nell'aprile del 36 vincero la guerra e si trovarono appunto a instaurare una dittatura che durerà poi fino agli anni 70 con la morte appunto di Franco. Ebbene, questi piloti, soprattutto nella zona della Spagna del Sud, erano costretti a volare in mutande perché anche loro veramente avevano, di norma avevano degli equipaggiamenti molto pesanti perché di solito chiaramente gli aerei del tempo non avevano dei sistemi di climatizzazione, volavano in alto e quindi c'era freddo in altitudine. Però appunto in quel caso pativano più che altro il caldo e quindi si trovavano costretti a volare in mutande. Questo lo riporta Adolf Galland che fu uno dei più grandi piloti di caccia della Germania nazista, ha fatto lo secondo aereo mondiale e prima ancora appunto la guerra di Spagna e lui riporta come avessero avuto questi problemi, diciamo, di carattere climatico. E un'altra curiosità relativamente agli uniformi, è da dire che la Germania aveva avuto un piccolo impero coloniale che era stato ovviamente, era stato sciolto nel 1918 con la sconfitta dell'imperiore mondiale. La Germania ha perso le sue colonie, la Namibia, la Tanzania, il Togo, quelle zone appunto dell'Africa centrale, centro-ovest, centro-sud. Però appunto avevano dei reparti coloniali e questi reparti erano comunque vestiti come si conveniva. Finito l'impero, restarono nei magazzini moltissime divise color sabbia, color cacchi si dice, brune. Ebbene, il nascente partito nazista mise le mani su questi magazzini e vestì i propri militanti con queste camicie, appunto, tropicali. Ed ecco nata la camicia bruna, simbolo appunto dei militanti nazisti, in particolare delle SA, le squadre d'assalto, le Sturnoftailung, che erano la forza paramilitare di Hitler, nei primissimi tempi della sua salita al potere, sono state fondate in turno al 2021 e appunto poi durarono fino a circa il 1934, quando erano diventate troppo scomode per il regime, quindi si provvide a ipurarle. E durante quella che è famosa come la notte dei miei coltelli, 30 giugno del 1934. E vi dicevo appunto, mentre le camicie nere italiane, ad esempio, avevano una motivazione simbolica, il nero era il colore della morte, il colore quindi appunto degli arditi della Prenerola Mondiale, queste truppe d'élite italiane, era il colore anche delle divise di certi operai romagnoli, quindi ricordiamo il retroterra romagnolo e operaio socialista, i Mussolini. Invece appunto le camicie brune nacquero per caso, c'era la disponibilità di queste divise color sabbia e quindi appunto le SA vennero vestite con questo colore appunto. E si potrebbe raccontare invece appunto un'altra problematica di combattere in un ambiente caldo che non è tanto il clima quanto gli animali, e quindi qua ci spostiamo per questo ultimo aneddoto. Potrei andare avanti ancora, 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 ma eventualmente faremo un altro video sul tema. Volevo appunto chiudere con l'episodio forse leggendario, attenzione a questo punto non è del tutto accertato storicamente, dell'isola di Ramri, siamo all'incirca nelle Filippine, nell'Oceano Pacifico, e alla fine della guerra, intorno al 44. Su quest'isola si trovava una guarnigione giapponese che doveva difendere l'isola dagli inglesi che appunto dalla vicina India stavano cercando di conquistare appunto nel gioco, che era un po' la guerra del Pacifico, saltare da un'isola all'altra, cercando appunto di rompere questa strenua difesa dei giapponesi, ed arrivare poi fino appunto all'arcipelago, all'arcipelago nipponico, come poi sarà alla fine della guerra. Bene, ancora una volta i giapponesi che difendevano l'isola di Ramri decisero di non arrendersi, e anzi ritirarsi nell'entroterra dell'isola, lasciando gli inglesi navigare intorno all'atollo. L'isola di Ramri è popolata da alcuni animali, da animali appunto che sono tra i più feroci nella zona, i coccodrilli marini. Stato i coccodrilli marini sono tra i rettili più grossi del mondo, e gli inglesi riportano, almeno nelle testimonianze, vi dicevo questa, no, ci sono testimonianze storiche certissime, ci sono alcune testimonianze che, vabbè, insomma, prendiamole col beneficio del dubbio, riportano appunto questi inglesi che sentivano di notte le urla, gli spari, e il rumore dei, allora appunto le urla e gli spari, dei poveri giapponesi che venivano divorati il rumore orrendo di queste centinaia di coccodrilli marini che li divoravano. E questo appunto è famoso come il massacro di Giuseppe Ramri, questi poveri giapponesi si erano potuti benissimo arrendere, invece si sono infilati in questa giungla terribile, e se non sono stati uccisi dai coccodrilli, sono stati uccisi dalle terribili zanzare che portavano alle peggiori malattie tropicali, e quindi appunto si salvarono veramente in pochi, ecco, diciamo così. Un caso simile avvenne poco lontano, sempre appunto nella zona delle Filippine, quando la nave americana Indianapolis, che aveva appena portato la bomba atomica a lanciare su Hiroshima la Little Boy, stava tornando verso la base, in missione segretissima, e venne trovata da un sottomarino giapponese e colpita da un siluro. Non ci fu possibilità di lanciare l'allarme SOS, appunto l'allarme via radio, perché era vietato dalla segretezza dell'operazione. Nessuno sapeva che la nave era lì, quindi non c'era modo neanche di rintracciarla. La nave andò a fondo in pochissimo tempo, coloro che erano sopravvissuti al naufragio immediato vennero quasi tutti divorati dagli squali. Questo è famoso, questo episodio, che è raccontato anche nel film Lo Squalo di Spielberg, molto celebre, nel quale appunto si fa parlare un superstite di questo terribile evento, che appunto riporta come fu effettivamente storicamente, non è finzione cinematografica, riporta come queste centinaia di marinai americani vennero o uccisi dalle insolazioni, perché appunto rimasero lì senza acqua per moltissimo tempo, o appunto divorati dagli squali che infestavano quelle acque. Un idrovolante americano di pattuglia li trovò per caso, appunto volando nella zona vide questa massa di poveri naufraghi e appunto diede delle SOS, e quindi finalmente vennero questi marinai americani recuperati. Il comandante della nave venne sottoposto a numerosissime inchieste, perché appunto si cercò di scaricare la colpa solo su di lui, che poveretto si era limitato a eseguire gli ordini, anzi a suo svantaggio, tanto che addirittura anni dopo la guerra, per il peso di questa umiliazione, perché era poi stato cacciato dalla marina eccetera, si suicidò, e c'è stata poi tempo dopo un ulteriore processo che l'ha riabilitato totalmente, quindi togliendogli ogni responsabilità. E queste sono... Spesso accade durante le guerre in una situazione di questo tipo. Io vi ringrazio come sempre, ho concluso, vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi ricordo come sempre di lasciare un like e iscrivervi al canale se gli argomenti vi interessano, se i video vi piacciono, per rimanere sempre aggiornati. Vi lascio come sempre il link della nuova pagina Instagram del canale, e ora un paio di consigli esperti. Si raccomanda in questi giorni particolarmente caldi di bere molta acqua, non uscire nelle ore più calde, di indossare abiti leggeri e eventualmente chiari. Io vi auguro buona serata, ciao, a presto.